... ... ... ... ... ... ... ... Grazie. Grazie. Chiudilo, chiudilo. Perché no? Aveva le prese... Oh, madonna. Non puoi entrare con le prese forte perché... Ma poveri... Perché hai un po' presa? Per giudo, ragazzi. Devi cambiare prese ancora. Puoi tirare con le prese? Entra, va bene, entra! Vai! Devi dirgli il cambiare prese. Ma è entrato a destra adesso? Ma Nicola?